Sono un luogo dove il tempo scorre lentamente, dove ogni giorno inizia con la luce che accarezza le colline. Sono una terra che nutre. Olio, latticini, tartufo, pane e vini. L'eccellenza del Molise anche in questo video di presentazione in vetrina a Ortigia, superba sede del G7 Agricoltura in programma da domani. In Sicilia, ha detto la responsabile della seconda area della regione, Sandra Scarlatelli, portiamo la cornice ideale per un'agricoltura innovativa al contempo custode della nostra storia. Protagoniste della delegazione, aziende che hanno partecipato a una misura del PSR per la presenza al G7. Nello stand talmente originale che riproduce un reale sottobosco con tartufi a cura dei tecnici del vivaio di Campochiaro, degustazioni, video che raccontano le produzioni, per esempio per il pane dai semi di grano alle tradizioni, lavorazioni casearie sul posto. Organizzato dal Ministero dell'Agricoltura è un appuntamento e una vetrina internazionale importantissima dove il Molise non poteva mancare perché in questa occasione si racconterà, sicuramente ci sarà un confronto su diversi temi dell'agricoltura, ma soprattutto si parlerà del buon cibo, del cibo di qualità, della storia, delle tradizioni della nostra terra, dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, ma soprattutto anche del settore vivaistico e forestale che interessa molto la nostra regione. Uno sforzo importante della struttura regionale è una scommessa imponente fatta insieme al primo settore. Soprattutto un ottimo viatico, ha concluso l'assessore Salvatore Micone per l'avvio della nuova programmazione. Coincide con l'inizio del nuovo programma di sviluppo rurale che metterà diverse decine di milioni di euro come liquidità sul territorio, non solo come sostegno ma soprattutto anche come investimenti per quanto riguarda le nuove generazioni perché il cambio generazionale è un aspetto importantissimo in questo settore. Grazie Grazie Grazie